Elis, cosa fai? Ah, vuoi cambiare il tuo amico? Perché ha fatto la cacà? Esatto, ha fatto la cacà. Lo cambi? Ma lo lasci così quando ha fatto la cacà? Ma lui, non lo cambi? Guarda Elis, la cacà, ha fatto la cacà, devi cambiarlo. Devi cambiarlo, ha fatto la cacà, sai? La cacà. Sì, ha fatto la cacà, hai visto? Ecco. Ecco, così si cambia. Adesso lo cambi? Ecco qua, così. La cacà? Sì, così ha fatto la cacà, è così.